Buonasera per questa puntata di TG Impresa, siamo nella sede della Camera di Commercio di Lucca e siamo in compagnia del Presidente della Camera di Commercio Claudio Guerrieri. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Per una primissima valutazione del Desco che è terminato proprio lo scorso weekend, la manifestazione enogastronomica Real Collegio, intanto la sua impressione su come è andata l'edizione di quest'anno? Quella mia impressione che è maturata sulla base e sulla scorta delle mie visite settimanali, perché sono stato tutti i fini di settimana al Desco, sulla base delle chiacchierate che ho fatto con gli espositori e con i funzionari della Camera di Commercio che hanno sempre presidiato la manifestazione in quattro fine settimana. L'impressione generale è che la manifestazione abbia confermato e consolidato quel successo che ormai da nove anni riscontra, perché siamo in questo caso alla nona edizione e siamo decisamente convinti che organizzeremo anche la Decima nel 2014. C'è già un primo dato che possiamo dare in anteprima ai telespettatori di Noi TV relativi al Desco 2013? Sì, noi abbiamo un sistema di monitoraggio all'ingresso, per cui siamo in grado, con un accettabile grado di sicurezza, di dare il numero dei presenti, cioè di coloro che entrano e partecipano come utenti o come spettatori al Desco e quest'anno la cifra che abbiamo raggiunto è 45 mila, quindi abbiamo superato quella cifra di 42 mila dello scorso anno che già rappresentava, chiamavano un primato, se vogliamo parlare di Guinness, abbiamo il Guinness dei primati nel 2014. Quindi una manifestazione di successo in ulteriore crescita, poi tutti i dati completi della manifestazione del Desco 2013 saranno forniti la prossima settimana sempre dalla Camera di Commercio, però vorrei chiudere questo breve appuntamento con lei ricordando l'importanza di manifestazioni come queste. Perché da nove anni state sostenendo con forza questa manifestazione? Ricordo che la manifestazione nacque su iniziativa dell'allora APT, anzi dell'allora direttore dell'APT Francesco Colucci e con la scomparsa e la soppressione dell'APT il testimone è stato preso dalla Camera di Commercio perché ritenevamo e riteniamo che è una manifestazione che unisce un duplice scopo, quello di promuovere le nostre produzioni tipiche, non gastronomiche e quindi i nostri imprenditori del settore e quello di promuovere flussi turistici in un periodo di bassa stagione sia una manifestazione che merita l'interesse e in effetti la presenza che si è detto unita al fatto che quest'anno abbiamo avuto 51 espositori, quindi anche lì è un record, confermano che l'idea è positiva. Bene, ringraziamo il Presidente della Camera di Commercio Claudio Guerrieri, ringraziamo voi per l'attenzione e vi diamo appuntamento tra sette giorni con ETG Impresa.